Buongiorno, sono Angelo dell'azienda Russo, io e mio fratello Calogero portiamo avanti un'azienda e lavoriamo con più di 200 litri di terra. I lavori che svolgiamo sono dai cereali, dai foraggi e poi come impianti di mandorletti passiamo più di 8-9 mila piante. Abbiamo scelto Deux Fabio 15 anni fa perché è stato l'unico marchio che ci ha dato più fiducia, l'ultimo arrivato è stato il 6.000 al piano 25 grazie alla nostra concessione di fiducia che l'ha fatto provare l'anno scorso e l'abbiamo acquistato, l'abbiamo provato, è stato a bassi consumi, grande soddisfazione e grandi attestazioni. Anche come assistenza e come concessionaria, sono sempre in primo piano, sono sempre presenti per qualsiasi esigenza che si pone nella macchina. Deux Fabio è un marchio che ci completa veramente tutti i nostri lavori. C'è in programma un altro acquisto di un 6.785 perché veramente ci ha dato grande soddisfazione e allargheremo così il nostro parco macchine Deux Fabio.